Stiamo vivendo in una società dove la maggioranza delle persone ha una gerarchia bassa, che agognano ad innalzare. Sono poche le persone che hanno una gerarchia molto alta e molti pensano, credono che queste persone siano in grado di influenzare, come si trattasse di un trattamento chimico, questa nostra società. Il risultato è che viviamo in una società mediocre, la quale dipende dagli ordini gerarchici, perché tutte queste persone, sia con bassa o alta gerarchia, non sono in grado di decidere da sole, con responsabilità, vivono completamente dipendenti. Tutta questa enorme massa di persone credono a tutto quello che gli viene raccontato, perché non sono in grado di pensare chiaramente e soprattutto di decidere autonomamente. Sono veramente poche le persone, anche se hanno una gerarchia elevata, di definire la sobrietà delle loro azioni, perché anche loro si devono adeguare nel sottostare a chi è più alto in grado. E questo vale per tutti i settori. Questo, in fin dei conti, è quello che vogliono, ossia nessuna responsabilità personale. Ma chi è allora che si prende la responsabilità? Nessuno di quelli che vediamo. Piuttosto fatevi questa domanda. Perché insistono continuamente, spendendo miliardi di propaganda, diffondendo incessantemente attraverso social, device, tv e media, notizie a favore e contrarie per le menti imprigionate in queste gerarchie? Semplicemente per continuare a dominare la società. Grazie a tutti.